Compiti per le vacanze e per Nunzio Allella Imparare a utilizzare anche il sinistro Almeno per controllare il pallone Perché quello che sa fare con il destro è da serie A Quello che non sa fare con il sinistro lo limita terribilmente E torniamo al discorso fatto anche per altri In particolare per Colfalidis Quando si è così giovani, ma anche quando si è anziani Non bisogna mai smettere di pensare che si può ancora imparare Che si può migliorare Non si può accettare l'idea, ma io sono fatto così Lella deve imparare appunto a utilizzare maggiormente l'altro piede Per il resto ha mostrato di avere le qualità All'insedimento, alla capacità di combattere, al dinamismo Insomma è un giocatore che al pari di Colfalidis è un prodotto del vivaio Anche se acquistato quando ormai era già grandetto Non arriva dagli esordienti giovanissimi Arriva già allievo a Cagliari Ma certamente è uno di quei calciatori che può essere utile alla causa A margine di crescita deve mettersi a disposizione della squadra E deve pensare che deve rubare da tutti qualcosa Magari lavorando anche un po' di più Non è vietato neanche tra i calciatori fare i corsi di recupero Quindi se per caso durante la settimana Dovesse capitare che due o tre ore in più Le può dedicare a migliorare determinati aspetti Probabilmente ne trarrebbe vantaggio solamente il calciatore Oltre che il Cagliari che crede in lui Il voto di Lella in questo campionato è 7